Per un mese il Museo Internazionale delle Ceramiche rende omaggio all'arte giapponese grazie anche al contributo di Caviro. Dal 22 ottobre al 27 novembre le sale del Mickey, in occasione del 150esimo anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, ospiteranno Made in Japan, 100 opere realizzate da artisti giapponesi tra le più significative della collezione dello stesso museo per raccontare la storia della scultura ceramica nipponica del 1900. Made in Japan è un omaggio ai 150 anni di rapporti diplomatici tra l'Italia e il Giappone. E il Mickey è una delle collezioni più importanti extraterritoriali del mondo. E quindi siamo stati invitati a realizzare una mostra che raccontasse un po' la fascinazione di questo momento, da quando diciamo il Giappone si apre alla cultura occidentale, quindi siamo alla metà dell'Ottocento, con le esposizioni internazionali e inizia questa moda del japonismo, come viene definita nel 1870, da un critico francese. La mostra cerca appunto di ripercorrere questa fascinazione attraverso non solo opere ceramiche, ma anche stampe e fotografie. Il museo ha una raccolta straordinaria di pezzi antichi, ma anche contemporanei, che sono arrivati al museo attraverso tutta una serie di donazioni, soprattutto nel secondo dopoguerra, e poi in seguito dell'apertura all'internazionalità del premio Faenza, quindi dal 1963.